Con una propria delibera di giunta, la distribuzione delle risorse per la pulizia dei torrenti, in realtà per le manutenzioni ordinarie. Negli anni abbiamo visto come questa delibera abbia avuto una sua tempistica, una sua impostazione e una sua distribuzione tra i vari comuni. Noi con questa interrogazione volevamo semplicemente avere risposta su due temi. Di solito la delibera viene fatta attorno al mese di aprile e maggio. Ad oggi la delibera non è ancora stata fatta e vorremmo capire i tempi perché questo consente ai comuni di poter progettare i propri interventi. Seconda cosa, se le risorse che vengono stanziate e che sono utilizzate sono dai canoni, sono le stesse dell'anno scorso e lo dico per questo. Nelle ultime discussioni che abbiamo fatto abbiamo detto che noi dovremmo lavorare negli anni per far sì che le risorse dei canoni idri ci rimangano molto di più sui progetti che non sulla struttura della Regione. L'anno scorso erano 1.848.500. Oggi noi non sappiamo, non essendoci la delibera, quanti sono e se questo percorso di allargamento e di ampliamento del montante delle risorse si è consolidato o è tornato indietro. Quindi queste sono le due domande di interrogazione.